Ristretto italiano. I media internazionali scrivono di noi. 12 ottobre, giorno della scoperta dell'America. Buongiorno a tutti. Negli Stati Uniti è il Columbus Day, festa federale che, come ogni anno, da molti anni è accompagnata dalle polemiche sulla controversa figura di Cristoforo Colombo. Meglio sarebbe, si dice da molto tempo, soprattutto nella sinistra americana, dedicare l'anniversario dell'arrivo degli europei ricordando i popoli indigeni. Gli italiani meritano una festa con un nome migliore. Questo è il titolo dalle Virginia di The Intelligencer. E l'articolo ricorda la genesi di questa giornata istituita alla fine del XIX secolo come riparazione alla strage di New Orleans del 1891, quando, quella volta, 11 immigrati siciliani vennero linciati dalla folla come rappresaglia per l'uccisione di un commissario di polizia, omicidio che era stato attribuito alla locale comunità italiana. E così fu l'anno successivo, dopo 12 mesi di scontri diplomatici con l'Italia, fu nell'anno successivo, oltretutto il 1892, quattrocentesimo anniversario della scoperta dell'America, che il presidente americano dell'epoca, Benjamin Harrison, per ricomporre l'incidente con Roma, istituì il primo Columbus Day. Come dicevo, era il quattrocentesimo anniversario dello sbarco del navigatore italiano nelle Americhe. Quindi una festa nata come omaggio riparatore alla minoranza italiana, che oggi, a dire la verità, non garba più nemmeno tanto agli italo-americani, che meriterebbero di essere celebrati con una figura meno controversa. E allora chi? Si chiede la testata. E qui che l'intelligence fa un mare di nomi, davvero nomi che si sprecano. Si va da madre Francesca Cabrini, appassionata e intraprendente e sostenitrice degli immigrati italiani, e che fu la prima cittadina statunitense a diventare santa, a Amerigo Vespucci, a Giovanni da Berrazzano, a Giovanni Caboto, che in America è diventato John Cabot. Poi ci sarebbe Enrico Fermi, il più famoso scienziato italo-americano, anche se è un po' problematica la sua figura per il lavoro che fece sul progetto Manhattan, o ancora Sacco e Vanzetti, che comunque non piacciono a tutti per le loro posizioni anarchiche. Ma ci sono anche Galileo Galilei o Leonardo da Vinci, che però con gli Stati Uniti non hanno avuto mai alcun legame. Ben quotato invece a sostituire Colombo, è Giuseppe Garibaldi, non un santo come la Cabrini, ma un eroe ammirato ai suoi tempi e ancora oggi come un campione di libertà. E nel suo caso il legame con l'America ci sarebbe anche, considerando che nei primi anni 50 dell'Ottocento vi soggiornò per un breve periodo e anche in quell'occasione si fece sentire con pressioni per l'emancipazione dei neri americani. Vedremo come e se soprattutto continuerà questa discussione. Secondo me ce la troviamo paro paro quest'altro anno, e poi l'anno dopo e poi l'anno dopo. Cambiando argomento, l'Italia, e qui vengono i dolori, l'Italia può scoprire che novembre è il mese più crudele, è solo il titolo del Washington Post, roba comunque da toccarsi subito. Non ci vorrà molto, attacca l'articolo a firma di Marco Sashworth, analista di Bloomberg, per spingere l'Italia altamente indebitata in una grave crisi finanziaria, poiché già sta flertando con rendimenti obbligazionari vicini a livelli insostenibili. E il grande rischio è che accada qualcosa come è già accaduto a settembre, in Gran Bretagna. Novembre potrà essere quindi il mese della tempesta perfetta con un nuovo governo che dovrà cominciare a lavorare e possibilmente con un ministro delle finanze accettabile. Poi ci sarà l'approvazione della finanziaria da parte del nuovo Parlamento con il successivo esame della Commissione europea. Ed è probabile, scrive Ashworth, che questo processo, che comunque è sempre teso, quest'anno lo sarà ancora di più, a causa di un disavanzo di bilancio più ampio e di un aumento dell'indebitamento. Con 245 miliardi da rifinanziare nel 2023 e 230 nel 2024 i margini di errore sono praticamente nulli. Meloni, per di più, continua l'articolo, si troverà senza il banchiere centrale Panetta, che dopo lungo corteggiamento ha detto grazie e no. E non è finita a proposito della tempesta perfetta, in quanto, ricorda l'articolo, l'Italia si potrebbe trovare politicamente più vulnerabile proprio quando le munizioni della BCE per difendere i mercati della zona euro sono al minimo. Ma non tutti la pensano così. State a sentire. Anche senza Draghi, il pesante debito italiano non condanna l'Europa. È, come dicevo, di tutt'altro tenore l'analisi, assai rassicurante per noi, dell'analista americano Ken Fischer, che poi è il fondatore della Fischer Investments. Un'analisi che è stata pubblicata dal belga La Libre. C'è un default prossimo? Nuovi piani che vedranno nuovamente i paesi del nord Europa pagare il conto? Ci sarà un crollo dell'euro? No, signori, risponde Fischer. Sì, da una parte, con un debito al 153% del PIL. L'Italia è ben al di sopra, soprissimo, se si potesse dire, delle medie mondiali. Ciò che conta è la sostenibilità del debito, la capacità di ripagarlo. E se l'Italia non ha fallito negli anni 90, quando i costi per gli interessi rappresentavano il 43% del gettito fiscale, non fallirà nemmeno adesso. Affinché il debito diventi insostenibile, sostenibile, i tassi dovrebbero salire alle stelle e rimanere alti a lungo. E niente di tutto ciò è in vista. Due posizioni, io tifo per la seconda. Occupandoci d'altro. Carcere meno duro per Cesare Battisti, che dall'Istituto di Massima Sicurezza di Ferrara è stato trasferito al carcere di Parma, dove è stato declassato, o avanzato, decidete voi, allo stato di prigioniero comune. Notizia passata quasi inosservata in Italia non fosse stato che per una protesta di Fratelli d'Italia. Notizia che trovo sul sito brasiliano Assessà. La decisione, leggo, ha fatto seguito a una richiesta della difesa e anche a una valutazione di minore pericolosità rispetto al passato, dal momento che i proletari armati per il comunismo non esistono più e Battisti non ha contatti con nessun terrorista. Il suo livello di pericolo, quindi, è considerato inferiore a quando rientrò in Italia a inizio 2019. Latitante per oltre 40 anni dei suoi 67 anni di età, Battisti, spiega l'attestata paulista, ne ha passati 14 in piena libertà in Brasile dopo aver ottenuto dall'ex e possibile futuro Presidente Lula, lo stato di rifugiato politico. L'arresto venne effettuato in Bolivia. Non mi ricordo se ve l'ho detto, era il gennaio del 2019. Chiudiamo con l'arte. La Galleria degli Uffizi di Firenze fa causa a Jean-Paul Gaultier per l'utilizzo delle immagini di Botticelli. La maison francese, come riferisce il Guardian da Londra, è stata citata in giudizio per danni che potrebbero superare i 100.000 euro dopo il presunto uso non autorizzato di immagini della nascita di Venere di Botticelli che sono state stampate su t-shirt, su leggings e su corpetti. Non voglio sapere altro. Più o meno della serie, comunque vogliamo anche noi partecipare al business. Vi saluto, vi aspetto domani e come sempre vi auguro una perfetta giornata. Ristretto Italiano Di Ruggero Po